Spezzato Pantalone vita alta, ghiaccio Cravatta in seta grezza Il pantalone a vita alta, quindi risulterà più lunga Giacca monopetto 100% lino in un blu medio Per l'orologio, EVC International Watch Vintage È un look che parte dallo spezzato originale, classico Ma l'ho voluto rivisitare in questa chiave più dandy, più moderna A indossare con personalità, liberamente, senza troppa rigidità Uno spezzato che serve a distinguere nettamente gli uomini dei ragazzini